La istituenda commissione regionale permanente sul sistema idrico e sui cambiamenti climatici fa litigare la maggioranza del centrodestra a guida a Marsilio, complice anche la campagna elettorale di fatto già iniziata per le elezioni regionali, probabilmente nel marzo del prossimo anno. La polemica è scoppiata tra la Lega che con il neoportavoce regionale Francesco De Santis, assessore comunale dell'Aquila, ha annunciato che il Carroccio non voterà il provvedimento sulla istituzione perché è inutile in quanto ci sono già due commissioni che hanno queste competenze, invitando a seguire il modello del Governo nazionale con una cabina di regia ed il consigliere regionale del gruppo misto Sara Marcozzi, già ex Movimento 5 Stelle, con cui è stata già due volte candidata alla presidenza della regione, ex Futuro Italia di Luigi Di Maio e in procinto di passare nel centrodestra, in particolare in quota Forza Italia, percorso che vedrebbe come regista il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Marcozzi, che ha proposto il nuovo organismo votato nelle commissioni, è uscito allo scoperto dopo che in una nota De Santis, non facendo il suo nome, ha detto non vorremmo dover pensare che l'ipotesi di istituire una nuova commissione consigliere permanente sia utile a facilitare il passaggio in maggioranza di un consigliere regionale di opposizione, al quale qualcuno avrebbe a tempo promesso la presidenza dell'ipotetica nuova commissione, sarebbe una brutta pagina politica. Che brutto esordio quello del giovane portavoce, ha replicato l'ex Pentastellata. I leghisti sono ossessionati dalle poltrone e remano contro gli abruzzesi, sottolineando che la Lega non ha mai sollevato dubbi nelle sedute della Giunta per il regolamento, votando a favore lo scorso 11 di maggio. Pronta la controreplica del vicepresidente nazionale dei giovani del Carroccio. Non sapevamo chi fosse fino ad oggi il consigliere regionale di opposizione in procinto di aderire al centrodestra con l'aspirazione di ottenere la presidenza della istituenda ipotetica commissione permanente. Ringraziamo per questo Sara Marcozzi che con il suo comunicato stampa si è autodenunciata e ha permesso agli abruzzesi di scoprire il segreto. Ora aspettiamo anche di sapere a quale partito del centrodestra sia venuta in mente questa genialata, conclude De Santis.